Welcome to Madeira Ok ragazzi ci siamo Prima etapa del mondiale Madeira Le valigie sono pronte In teoria Adesso vi manderò una piccola clip E niente Stiamo aspettando il meccanico Che viene a prenderci Andiamo all'aeroporto di Venezia E al Leotto Ci parte Ci siamo Venice Aeroporto Stavolta Si prevede un atterraggio su un'ala No certo Bc 1 2 3 4 Matteo Chacon Che fa per 5 Bravo Bravo Attenzione momento della verità Si va il peso Valigia Aia Aia No Tira via la mano Tira via la mano No 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 34 Ragazzi non te la carica neanche se vuoi Ma neanche se li paghi Ma non li pesa Te la faranno pagare 300 euro in più E 10 euro in più Oh Tutto dovrebbe essere ok L'ho pesata a casa Perché sono un bravo ragazzo Bravo Madonna Troppo facile Troppo facile questo Oh Dai 40 40 Sei fuori solo di 8 kg Siamo fatta Perché Questo stronzo mi ha fatto mettere La sua forcella di merda Mi ha fatto tutto Cosa Tutto mi ha fatto Due forcelle Si Se l'era o cascano Perché siamo 64 kg Devono prendere un aereo Tutto per voi tre Perché io l'ho pesata a casa Qua mi da 2 kg in meno Dimmi dimmi Io Da che mondo nel mondo La bici non me l'ha mai pesata Se sto posto qui mi pesa la bici Io faccio una detonazione Do fuoco a tutta Ci siamo Attenzione E' andata We made it Se l'aereo casca È colpa nostra 44 kg Ci siamo Ci siamo Ci siamo Vai dritto Vai dritto Occhio Occhio Questo non esce Questo non esce Questo è un problema Mi sto rimanendo incastrato lì No 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 Blocca Blocca Cosa che dico Cosa è no Cosa è rimesso di Cosa è rimesso di Cosa è rimesso di Cosa è rimasto Madeira, attenzione! Come state? Atterraggio perfetto! Troppo facile proprio! Abbiamo già dimenticato il cellulare nell'aereo! Ragazzi, anche le bici sono arrivati! E siamo a due cose andate bene su tre oggi! Adesso mi accasso il furgone! Sarà un cazzo ragazzi! Buongior! Buongiorno ragazzi! È stata dura ieri! Però... Guardate che vista! Bellina! Quello è il nostro mezzo! E che mezzo! Questo è un esemplare selvatico di Chacon! E laggiù è l'aeroporto dove siamo atterrati! Buona! Adesso si va a fare un po' di spesa! Poi si monta le bici! Ciao! Non si capisce che abbiamo dormito a cinque ore! Sto quattro ore! Casa nostra! Basta tirarsi senza che... Cada magari! Un po' di spesa! Un po' di spesa! Perfetto! A montare la bici! Uuuu! 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 Un po' di spesa! 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 come la situa? prendi prima la confidenza vai dentro la, occhio che arrivi a un certo punto c***o ma che faccio dritto ma che faccio dritto sono certo giovedì ieri abbiamo ritirato i numeri abbiamo fatto un po' i turisti in giro per l'isola oggi è il primo giorno di prove il mezzo è pronto